Buonasera, Ono Lulo, è un onore. Io sono il commissario Kevin Costner. Ah, è omonimo? No, etero. Ho trovato a mia moglie sotto la doccia con un altro uomo. No, e che cosa hai fatto? Lo so lavato a pezzi. Con Francesco Mandelli e Fatima Trotta, Ono Lulo. Mercoledì, in prima serata, su Italia 1. Ospite della prossima puntata, Angelo Pintus.